Ah, meno male che ho messo a registra. Articolo 41, riprendiamo dal tupi. Avevamo visto un attimino quali erano le parti in gioco, no? Parliamo della contrattazione centrale, quella collettiva nazionale, non della decentrata. Quello c'è il video apposta che è uscito, l'abbiamo fatto nell'altra live, la contrattazione decentrata. Questa è quella nazionale. Avevamo visto quali erano le parti. L'ARAN, che facoltativamente rappresenta negozialmente le pubbliche amministrazioni. Il rapporto che intercore tra ARAN e pubbliche amministrazioni, diciamo, è di mandato, sostanzialmente. Mandato perché? Perché le pubbliche amministrazioni rappresentate e rappresentanti se stesse nei comitati di settore, quindi l'UPI per quanto riguarda le province italiane, unione province italiane. L'ANCI, eccoli qua, vedete, UPI, ANCI, vabbè, è inutile che ve lo dico io, sta qua, leggemo. Potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN. E il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN è quello che vi stavo a dire, è quello che genera il cosiddetto mandato. Non tutte le PA possono... Cioè, chi è il coglione che non dà il mandato all'ARAN? È ovvio che si dà, però, diciamo, non è che è obbligatorio che ci sia l'ARAN, va bene? E dall'altra parte, invece, abbiamo ovviamente la componente pubblica, cioè, chiedo scusa, la componente privata, cioè quella rappresentata dai sindacati, ok? Rinaldo, buonasera, Conte. Rappresentata dalle sigle sindacali maggiormente rappresentative CGL Cisleville, lo sappiamo. Il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alle procedure di contrattazione, che vuol dire, l'interpretazione autentica, che poi andremo a vedere, le clausole di raffreddamento, poi le andiamo a vedere, però i rapporti tra PA, comitati di settore PA e ARAN, sono esercitati dalle PA attraverso le proprie istanze associative o rappresentative, quello che vi stavo a dire, ci si associa, ci si rappresenta, le quali costituiscono comitati di settore che regolano autonomamente le proprie modalità di funzionamento e delibera. Comitati di settore. La contrattazione collettiva, per voi pochi fortunati che siete qui in questa live, perché poi, come sapete, le live del venerdì le metto riservate agli abbonati, noi oggi, con 10-15 minuti, risolviamo la contrattazione collettiva, che poi non è una cosa che chiedono tanto al concorso pubblico, sono d'accordo, ma è una cosa che comunque ci permette di pulire il cervello, mettere anche questo argomento in cascina, ok, lo so, non lo devo più rivedere, se non 5 minuti prima dell'esame. Schemino, penna e carta, ve l'ho già detto. Guerino Toppi, se Rinaldo era il conte, lei è l'Arciduca. Foglietto di carta e penna, nulla come efficacia dello studio potrà mai sostituire carta e penna, armatevi, adesso. In ogni caso, le delibere assunte in materia di indirizzo all'Aran, di parere sulle ipotesi di accordo, sulle ipotesi di accordo, nell'ambito della procedura di contrattazione, si considerano definitive le delibere assunte in materia di indirizzo all'Aran, cioè quando il comitato di settore, proprio perché è autonomo nel funzionamento e nella delibera, si dà un indirizzo e lo dà all'Aran, questo è definitivo, e non richiedono ratifica da parte delle istanze associative delle PA, cioè, snellimento, semplificazione, mi hai dato il mandato? Così funziona. Ciao Ivan. È costituito un comitato di settore, nell'ambito della conferenza delle regioni, che esercita le competenze di Qualcomm 1 per le regioni, cioè i poteri di indirizzo all'Aran, relativi a antidipendenti e le amministrazioni dell'SSN, perché anche l'SSN è gestito a livello di ASLE, quindi a livello regionale. A tale compito partecipa un rappresentante del governo, un rappresentante del governo designato dal Ministro del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali per le competenze delle amministrazioni dell'SSN, questa cosa non ci interessa del servizio sanitario, via. È costituito, però c'è il comitato delle regioni, che è quello della conferenza delle regioni, bene, anche per l'ambito sanitario, perché si muove con le ASLE, questi sono i modi per ricordarci un po' le cose, la vita comune, vado all'ASLE, sto entrando in regione, ciao Vale, è costituito un comitato di settore nell'ambito dell'Associazione Nazionale dei Comuni, quante volte vi ho nominato l'ANCI, quante volte vi ho nominato l'UPI, e l'Union Camere per quanto riguarda le Camere di Commercio, dipendenti degli antilocali, segretari comunali e provinciali, va bene? Unione Camere per i dipendenti degli antilocali, C, I, I, C, C, I, I, A, A, le Camere di Commercio, i segretari comunali e provinciali, comitato di settore, per tutte le amministrazioni, tutte, eccetto quelle di cui ho il comma 2, opera come comitato, questo l'abbiamo sempre visto anche col decentrato, andatevi a riprendere le due lezioni, leggetele in sintonia, la presenza del Consiglio dei Ministri, o meglio, il Presidente, sia come funzione che come persona fisica, tramite il Ministro per la PA, che è un Ministro che non conta un cazzo, credo che non abbia neanche dei poteri di portafoglio, credo, credo, di concerto ovviamente con il MEF, per ciò che attiene alla programmazione finanziaria. Ah, ma la contabilità di Stato, ah, boni, la contabilità di Stato me la sto costruendo, piano piano ci arriveremo, quella roba là, già ve lo dico, riserverò quasi tutto agli abbonati, perché è un, scusate l'espressione, è un dito nel sedere, cioè veramente la contabilità di Stato, o meglio, non è tanto che è difficile, è che o stai su un livello ipergenerico, o vai su un livello ipertecnico, non è come la contabilità degli antilocali, che bene o male ci sono varie gradazioni, no, di tecnicismo, varie, varie, vari gradi di approfondimento, no, la contabilità di Stato, regà, cioè, o resti sul vago, il DEF, la NADEF, la legge di bilancio, tutto bello, le direttive del ministro dopo dieci giorni, bla bla bla, ma poi ci perdiamo, come iniziamo a entrare nei centri di responsabilità, nei funzionari delegati, iniziamo a perderci, quindi, vabbè, ci arriveremo. Cazzo, ho letto MEF, stavo già partito con tutta una filippica, al fine di assicurare, Oriana, buonasera, buonasera, Giulia Fortuna, che cazzo è il 2? Regà, non parlate per sigle, perché io conosco, cioè, io so le mie di sigle, poi voi sapete le vostre. Innanzitutto, Giulia, rendiamoci sempre conto che, come dici tu, bisogna vedere, non è che siccome il revoca può essere un annullamento, abbiamo visto tipo la licenza edilizia, la concessione edilizia, in realtà è un'autorizzazione, quindi effettivamente i nomi ci dicono poco. La revoca della patente per 2, che che vuol dire? cos'è 2? Comunque no, secondo me è... no. No. Non tocca il TULPS, la revoca della patente? Immagino. Perché se tocca il TULPS siamo nei poteri di... sempre amministrativi, ma di altri tipi di pubbliche amministrazioni. Sono quelle che sequestrano, sono quelle che confiscano, sono quelle che ispezionano, che perquisiscono. che revocano, che sospendono, però bisogna vedere con che accezione. Perché poi annullamento d'ufficio? Non c'è illegittimità, non c'è accesso di potere, non c'è incompetenza, quelle... cioè il fatto che si chiama revoca, guida sotto influenza in americanese, se lo dico in italiano me lo censura. Ah, ok, la revoca tocca... Eh, Liana, ok che tocca il codice della strada, ma se tocca anche il TULPS, come penso io, come sospetto, da quello che mi ricordo, non è che siccome si chiama revoca andiamo a scomodare il 21 quinquies, il 21 nonies, il 21 octies, no. Cioè, qua siamo sotto un altro aspetto. Forse potrebbe residuare la revoca, ma mi verrebbe in mente giusto il fatto che togliere la patente è una persona che guida sotto influenza e non risponde più a interesse pubblico. Ma no, mi sembra più che altro un atto ablatorio. La 689 e il codice penale, ok. Boh, però no, così a naso ti direi di no. Però non conosco la risposta, Giulia. Andiamo avanti un attimino col TULPS. Al fine di assicurare la salvaguardia delle specificità diverse delle PA, perché salvaguardare? Perché come abbiamo visto prima, i comitati di settore ci hanno il mandato con rappresentanza. Quello che dicono loro è definitivo. definitivo e non richiede ratifica, quindi per salvaguardare la specificità delle PA e delle categorie di personale comprese, che magari non tutte potrebbero essere in accordo con i comitati, gli indirizzi sono emanati per il sistema scolastico sentito il ministro dell'istruzione, università e ricerca, anche se adesso sono splittati, nonché per i rispettivi ambiti di competenza sentiti i direttori delle agenzie fiscali, conferenza dei rettori delle università, le istanze rappresentative promosse dai presidenti degli enti di ricerca e degli EPNE e il presidente del consiglio nazionale dell'economia del lavoro. Questa roba non ci interessa. Via. Vi basti ricordare il primo periodo. Ok? Per quanto riguarda le PA non specificate nel comma 2, presidenza del consiglio dei ministri. Quindi, avete preso la vostra carta e penna, abbiamo scritto ARAN in alto, rappresentanza delle PA, freccine, riceve il mandato dai comitati di settore, eccoci qua, comma 4, dei rappresentanti designati dai comitati di settore, possono assistere l'ARAN nelle trattative, altrimenti l'ARAN ci andrebbe da solo. I comitati di settore possono stipulare, possono, vedete perché vi dicevo che non è obbligatorio farsi rappresentare dall'ARAN, poi certo, è la prassi, ma non è obbligatorio. Possono stipulare con l'ARAN specifici accordi per reciproci rapporti in materia di contrattazione e per eventuali attività in comune, studi di settore, implementazioni di servizi. Monitoraggi. Nell'ambito del regolamento di organizzazione dell'ARAN, per assicurare il miglior raccordo tra i comitati di settore delle regioni e degli enti locali e l'ARAN, a ciascun comitato corrisponde una specifica struttura, ok? Ovviamente, ce la infilano sempre, la clausola di invarianza finanziaria, senza maggiori oneri per la finanza. Per la stipula di accordi che definiscono o modificano i comparti, che al momento so quattro, o le aree di contrattazione collettiva, che al momento so, non mi ricordo, di cui è l'articolo 40,2. Eccolo qua. O che regolano istituti comuni a più comparti, o che si applicano a un comparto per il quale operano più comitati di settore, le funzioni di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione sono esercitate collegialmente dai comitati di settore. Questo comma potevamo anche non scriverlo. Va bene, non ce lo chiederanno, mai. Quattro, grazie Ivan. Ciao Dario. Stiamo parlando un attimino del Tupi, lo stiamo riprendendo perché non lo prendevamo da un po', me l'hanno chiesto alcune persone, quindi sto rifacendo e poi proviamo a interrogare Riccardo. No, Simo, tranquillo. Vatti a recuperare giusto quello sulla contrattazione decentrata, così c'hai i due livelli, cioè il livello nazionale e il livello locale. Il comitato di settore, come abbiamo appena letto, sono queste pubbliche amministrazioni o regionali o comunali o provinciali che delegano, tramite un mandato con rappresentanza, le proprie istanze di richiesta in sede di contrattazione collettiva all'ARAN, che quindi va, si siede al tavolo con i sindacati, rappresentando queste PA sulla base delle loro linee di indirizzo. Il comitato di settore, invece, per le PA centrali è la presidenza del Consiglio. Ruchi, da quanto tempo non ti sento? Ieri ho svolto una presa elettiva a 26.30, purtroppo la presa elettiva è presentata da... Va bene. Mannaggia, Ruchi. Cazzo, 26 trentesimi non bastano più? 26 trentesimi non bastano più? Va bene. Che piavono, un posto. comparto funzioni di rogari. Sì, no, che i comitati erano quattro, sì, le aree, dicevo, Ivan, non mi ricordo le aree quante so. Grazie, Simo, va bene, sono contento che ti sia chiarito. Andiamo all'articolo 42. Palle, quando fa così normativa, maronna mia. Se sta a 5 minuti fermo se in palla, peggio di me. Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro. Ah, boni che mi avete scritto in tanti. Marinella, c'hai il nome della gallina mia. Ciao, Edoardo. Giulia Fortuna, aspetta un po' qui, Giulia, scusami, però stiamo facendo un attimino un altro argomento sul Tupi. Magari questa cosa qua ce la vediamo in un altro argomento perché non mischiamo un attimino le cose. Marinella, perché era una presa elettiva? A volte non basta nemmeno 29. Madonna mia, oh. Regà, ma stiamo scherzando? Stiamo a questi livelli? Buonasera, Mara, ben trovata. E infatti, Antonio, 26, complimenti. Luca, grandissimo. Ciao, Lu. Quindi, diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro. Nelle PA la libertà e l'attività sindacali sono tutelate, lo sapete, ci sono le rappresentanze sindacali, anche colleghi, ovviamente colleghi vostri fanno i rappresentanti. Sono tutelate nelle forme previste da cosa? Dallo statuto dei lavoratori, la 300 del 70, che ve lo dico per i concorsi. Ciao Giulia, buona serata, che per lo studio dei concorsi non ci serve tantissimo in realtà. Lo so, Ricca, non ci serve per il concorso lo statuto dei lavoratori. E l'articolo 18, tutto quello che cazzo vi pare, non serve. Quindi, non farò adesso il click su questo link legge 20 maggio 1970 numero 300, perché non ce ne frega. Un cazzo. Facciamo economia normativa. Fino a quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla rappresentatività sindacale, le PIA che fanno osservano le disposizioni seguenti in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione di diritti e prerogative nei luoghi di lavoro. Cioè, sono le stesse PIA che devono dare possibilità ai sindacati di crearsi e rappresentarsi e tutelarsi all'interno del loro stesso ambito. Sembra un po' un paradosso, ma è così. In ciascuna amministrazione sembra quasi che la PIA conceda ai sindacati di fare contrattazione, ma non è così a ben vedere perché il test unico del pubblico impiego per sua stessa espressa previsione funge da norma imperativa, funge da base sotto la quale non si può andare, quindi la PIA non è che concede le trattative, le deve concedere per legge. È un po' diverso il discorso. Questo vuol dire limitare effettivamente l'autoritatività della pubblica amministrazione, non le stronzate che stanno a famo la rimozione dell'abuso d'ufficio, l'autotutela, no, 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 sono queste le norme, queste. Devi garantire la concessione, devi concedere la formazione dei sindacati. Quei sindacati, chiedo scusa, quelle sigle che sono le più rappresentative CGL e CISLEWILL che fanno? Possono costituire, possono, rappresentanze sindacali aziendali, cosiddette RSA, ai sensi dello statuto dei lavoratori. Ad esse spettano, ovviamente in proporzione a quale è più o meno rappresentativa, le garanzie previste, non ci interessano. in ciascuna PA, ente o struttura amministrativa, viene altresì costituito un organismo di rappresentanza unitaria del personale, RSU, mediante elezione alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori. Quindi, le sigle sindacali possono costituire delle RSA, mentre in ciascuna PA viene altresì, in ciascuna viene, cioè va fatto, punto, viene costituito un organismo di rappresentanza unitaria. Va bene? Questo per garantire comunque anche per quei dipendenti che non sottoscrivono Cigelle, Cisle, Will, Ciofabbi, un grado di rappresentanza e di partecipazione sindacale. Poi se non vuoi aderire manco all'RSU è sti cazzi. Ai fine della costituzione di questa RSU è garantita la partecipazione del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero. Va bene, questo trebis lasciamoli perdere. Andiamo avanti, comma 4. Con appositi accordi o contratti collettivi tra l'ARAN e le confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative sono definite la composizione dell'organismo dell'RSU e le modalità di elezione. Va fatto insieme, prevedendo comunque il voto segreto, metodo proporzionale, periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità. Deve essere garantita, vabbè regà, il comma 4 lasciamolo perdere. Queste RSU possono essere anche comuni a più amministrazioni, l'abbiamo visto mille volte il funzionamento di questo sistema, anche il segretario comunale può essere comune a più comuni, anche il dirigente finanziario può fare il dirigente in più comuni e anche qui c'è una forma di condivisione. Va bene? Piccoli comuni limitrofi lo possono fare e non rompe di coglioni. Economia normativa. Bene, andiamo avanti, vediamo qua se c'è qualcosa di importante da dire. Oh, allora, i componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali, aziendali. C'è un'equiparazione. Ciao, Anto. Ok? Ai fini, ovviamente, della 300 del 70, cioè nei limiti in cui siamo in questo segmento di funzioni e di attività. Oh, il 6 per il resto non ci interessa. il comma 7 non ci interessa. Il comma 8 non ci interessa. Il 9, 9 non ci interessa. il comma 10 non ci interessa. Il comma 11 ci interessa ancora di meno. Bene, articolo 43. Mo' finiamo, eh? Direi... Oddio, troppo grosso. Cazzo. Sì, ci vediamo la rappresentatività e poi chiudiamo. Madonna, che palle gli articoli del tubi, regalo. Ecco perché la vonte è rotta, che rottura dei coglioni. Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva. Sì, no, il 43 è importante, Ivan, è per quello che non mi andava ad iniziarlo adesso perché abbiamo già fatto 20 minuti. Idea. Ci fermiamo. Interrogazione a Riccardo. Via. Termino registrazione, quindi articoli 41 e 42 abbiamo visto. Sembrano piccoli ma in realtà abbiamo parlato di un botto di roba.